Il treno sta partendo? No. Amore. Anima mia. Dimmi che mi ami. Allora ci vediamo domani. Sì, domani. Col diretto delle 4.06. Aspetta, vedi Nando, vieni di qua. Ma perché non prendiamo l'accelerato delle 2.50? Fa più lento. L'accelerato è delle 2.50? Sì, sì. Ma io a mia moglie che ci dico? Amore!